A oggi esiste il concreto rischio di un nuovo commissariamento della sanità abruzzese e a questo si aggiunge il pericolo di un aumento delle tasse. E quanto sostengono i consiglieri regionali di Forza Italia, Mauro Febbo e Lorenzo Sospiri, che nel corso di una conferenza stampa hanno posto l'accento su quanto contenuto nel verbale del tavolo di monitoraggio del 26 luglio scorso. Dopo quattro anni e mezzo, affermano Febbo e Sospiri, il centro-sinistra ci riconsegna una sanità senza programmazione, senza aver avviato la costruzione di nessun ospedale e con i bilanci delle ASL fortemente negativi. Ci sono tante enunciazioni fatte che non trovano riscontro. L'ospedale di aree disagiate di Atessa non vi è traccia, del punto nascita di Summona non vi è traccia, dei famosi cinque ospedali che si dovevano realizzare in questi quattro anni e mezzo non vi è assolutamente traccia. Del DEA di secondo livello integrati tra gli ospedali di Pescara e Chieti non si parla di nulla perché non è stata fatta una riprogrammazione sanitaria. I LEA sono fermi al 2016 e si teme per il 2017. I vari tipi di assistenza territoriale e domiciliare creano tutta una serie di problematicità che vengono fortemente denunciati. Non c'è rispetto di quei parametri per quanto riguarda le unità complesse e le unità semplici che vengono enunciate ma non vengono concordate e approvate sui tavoli ministeriali. Ma soprattutto c'è da allarmarsi anche per quanto riguarda il sistema economico. Il Ministero certifica che il deficit è di oltre 52 milioni di euro che è una cifra enorme. Questo significa tornare indietro, significa riaumentare le tasse che nel frattempo non sono già state abbassate. Dovremmo comunque fare manovre correttive e io credo che continuare a chiedere sacrifici agli abruzzesi per avere una sanità che anziché migliorare peggiura sia ormai una indecenza.